screening scuole sicure presentati i numeri dell'operazione il sindaco ricci pronto a ripeterla sequestri e sanzioni per oltre 28 mila euro in diverse aziende a cali e urbani piante ammalorate in zona mare dopo l'abbattimento arrivano 150 nuovi arbusti lotta al covid l'avis comunale di pesaro rinnova l'appello per la donazione del plasma una buona serata a tutti i telespettatori di erosini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale subito in apertura tutti i numeri e i dati illustrati questa mattina durante una conferenza stampa dello screening scuole sicure l'operazione ha portato al tracciamento di 16 positivi asintomatici e il sindaco di pesaro matteo ricci ha confermato la volontà di ripetere l'attività di controllo destinata alle scuole entro l'inizio del mese di marzo ha superato quota 5.100 presenze scuole sicure lo screening organizzato dal comune di pesaro è destinato a studenti professori e personale scolastico degli istituti superiori del territorio che ha rilevato la positività al covid 19 di 16 persone 5.219 il numero complessivo di soggetti che si sono sottoposti al tampone rapido considerando anche i 115 partecipanti provenienti dai nidi e dalle scuole di infanzia comunali adesione molto alta dei ragazzi oltre il 65 per cento se pensiamo quelli che si sono già tamponati nelle società sportive nelle aziende dove fanno l'alternanza scuola lavoro l'80 per cento dei ragazzi forse più è stato sottoposto a screening più tutto il personale docenti ed è davvero una grande operazione grazie all'aile alla croce rossa protezione civile alle scuole ovviamente al comune che ci ha creduto tanto sono dati importanti anche perché dimostrano che ad oggi la scuola è abbastanza sicura sono 16 positivi però questi 16 positivi se non fossero stati scovati attraverso lo screening ne avrebbero infettati probabilmente qualche centinaio e quindi la dimostrazione che questi screening sono fondamentali per non richiudere la scuola anzi per far sì che i ragazzi possano sempre di più andare in presenza nelle prossime settimane concludere l'anno scolastico nel miglior modo possibile per questo invito la regione a ritornare sui propri passi e partendo dal modello pesaro costruire un modello marche visto che le marche hanno tantissimi tamponi a disposizione in magazzino per poter fare in maniera periodica lo screening nelle scuole superiori di tutte le marche perché tutti gli studenti marchisani hanno lo stesso diritto di coloro che vengono a scuola pesaro cioè di andare a scuola nella massima sicurezza possibile e in più perché abbiamo bisogno di continuare questo lavoro in modo tale che le fotografie che si scattano possano essere periodicamente ripetute proprio per anche avere dei dati statistici sull'andamento sull'andamento del virus scriverò oggi ufficialmente al presidente acquaroli all'assessore alla sanità alla direttrice ai direttori dell'asur per chiedere di fare loro questo lavoro per tutti gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie ci auguriamo che nel giro di una settimana ci venga risposto positivamente nell'interesse della scuola marchigiana positivamente e se così non dovesse essere noi siamo pronti con le nostre risorse con questa squadra straordinaria a fare un altro giro di tamponi tra la fine di febbraio e primi di marzo sicuramente nelle scuole superiori e valuteremo anche la possibilità di farlo nelle scuole medie diverse le realtà che hanno partecipato all'organizzazione dello screening tra queste c'è anche Ail e il presidente della sezione pesarese ha definito l'operazione un piccolo miracolo della comunità è un buon inizio che va ripetuto va ripetuto in larga scala e speriamo che poi questi positivi calino sempre di più perché vuol dire che il lavoro che è stato fatto è quello giusto e la strada è quella giusta l'entusiasmo per i numeri raccolti dall'operazione è stato manifestato anche dal preside del liceo scientifico e presidente regionale dell'associazione nazionale presidi riccardo rossini avere stanato passatemi questa parola 16 asintomatici che possono potenzialmente contagiare molte molte persone è davvero un grande risultato è quello che chiedevamo noi come associazione nazionale presidi da tempo chiediamo le vaccinazioni per il personale scolastico ma chiediamo anche lo screening di massa e soprattutto che si ripeta sistematicamente in questo periodo molto difficile gennaio febbraio ogni 15 20 giorni rossini ha poi dichiarato che senza un'attività di controllo periodica e con il verificarsi di numeri importanti all'interno degli istituti le scuole andrebbero chiuse l'ultimo caso risalente soltanto a qualche giorno fa riguarda la primaria di via fermi in cui si sono registrati alcuni casi di positività tra il personale ata della struttura se necessario bisogna chiudere le scuole capisco che la fascia d'età è come dire sensibile stiamo parlando di bambini e quindi anche con difficoltà tenerli a casa da parte delle famiglie quindi se non si chiude però si deve andare a tamponare a verificare rendere sicure le scuole isolando i casi diciamo così positivi in primo piano anche la cronaca con un'importante operazione condotta dai carabinieri di urbino che ha portato a sanzioni denunce e anche a due sequestri di aziende situate tra urbania e cagli i dettagli in questo servizio hanno portato al sequestro di due aziende cinesi del settore tessile alla denuncia nei confronti di un imprenditore e all'elevazione di multe di diverse migliaia di euro le indagini dei carabinieri della compagnia di urbino che hanno svolto durante i controlli in sei realtà attive tra urbani e cagli insieme al nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri e all'ispettorato del lavoro dell'area vasta 1 diverse dunque le infrazioni riscontrate dalle forze dell'ordine che in origine avevano avviato una mirata attività di controllo sul rispetto delle normative anti covid alle violazioni in materia di sicurezza con il mancato utilizzo di mascherine e prodotti per la sanificazione all'interno dei locali si sono aggiunte le pessime condizioni igieniche riscontrate in alcune strutture e l'assenza di sistemi di riscaldamento funzionanti situazioni che hanno quindi portato al sequestro di due fabbriche tra i 40 dipendenti totali delle sei aziende perquisite i carabinieri hanno verificato la presenza di sette lavoratori sprovvisti di regolare contratto e dunque in nero nei confronti di tre imprenditori sono state elevate sanzioni amministrative per un valore superiore ai 28 mila euro per uno di loro inoltre è scattata la denuncia a causa di alcune irregolarità relative al permesso di soggiorno le indagini dei carabinieri sono ancora in corso e i controlli proseguiranno anche nelle prossime giornate per rilevare eventuali nuove situazioni irregolari sul territorio parliamo ancora di cronaca perché i militari della capitaneria di porto di pesaro e della guardia costiera durante lo svolgimento di controlli sulla pesca professionale sportiva hanno sorpreso due soggetti colpevoli di aver pescato e fatto a tranci un grande esemplare di tonno l'attività di pesca sportiva del tono rosso in questo periodo dell'anno è vietata e per i due sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1333 euro in primo piano anche i dati riguardanti il covid sul territorio regionale il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4 mila e 729 tamponi 3 mila e 107 nel percorso nuove diagnosi di cui 1.497 nello screening con percorso antigenico e 1.622 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 13,3 per cento i positivi nel percorso diagnosi sono 414 con 91 casi in provincia di pesaro e urbino 16 invece i decessi notificati nella serata di ieri dal servizio sanità della regione inoltre questo pomeriggio è arrivata la conferma da parte del governatore della regione francesco acquaroli che anche la prossima settimana le marche rimarranno in zona gialla e partirà nei prossimi giorni la di alcune piante ammalorate in zona mare gli interventi programmati da aspesso con il quartiere e le associazioni ambientaliste si concluderanno con la piantumazione di 150 nuovi arbusti è di 42 il numero complessivo di piante ammalorate o giunte al termine del proprio ciclo vegetativo che aspessa partire dai prossimi giorni abbatterà in zona mare nelle vie gramsci cavallotti raffaello sanzio e vaccai un'opera di manutenzione del verde cittadino importante che ha visto la progettazione e la condivisione delle modalità e degli interventi insieme al quartiere e alle associazioni ambientaliste tra i motivi che hanno portato a programmare i lavori oltre alle condizioni delle piante sono stati identificati anche i rischi e i disagi che potrebbero derivare dal crollo di alcune di queste l'operazione garantirà inoltre una continuità delle specie già presenti nell'aria in seguito alla rimozione degli esemplari infatti si provvederà alla piantumazione di circa 150 nuovi arbusti questo lavoro che stiamo facendo è un lavoro di grande prevenzione perché il patrimonio verde è una cosa estremamente importante ma come tutti gli esseri viventi c'ha una vita c'ha un ciclo vitale c'ha anche del fine vita e quindi per evitare che possa essere problematico per le persone e per le cose creare problemi noi facciamo l'anagrafe del verde urbano e andiamo quotidianamente insomma a verificare la staticità e la tenuta delle piante in questo caso nella zona centro mare faremo alcuni abbattimenti e sono 41 complessivamente tra le vie della della zona e successivamente una volta fatto gli abbattimenti andremo a fare la ripiantumazione carattatura ovviamente per togliere le radici e le parti di tronco rimanenti e poi andremo da qui alla primavera a fare una ripiantumazione lo facciamo anche dove non andiamo ad abbattere il ad abbattere le piante ma dove andiamo a dove già non ci sono dove 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 come in via Gramsci ci sono diverse tornelli che sono rimasti liberi negli anni per le piante che non avevano attecchito via dicendo andiamo a fare una ripiantumazione siamo all'incirca solo in questa zona 150 piante che andranno rimesse a dimora e quindi questo lo facciamo abbiamo stilato insieme ai funzionari preposti quelle che erano diciamo le priorità insieme al quartiere per quel che riguardava la manutenzione del verde appunto viale raffaello sanzo viale vaccai e viale buonarroti sono state indicate insieme ad altre vie verso viale fiume fra le priorità ed è molto ed è per noi un piacere vedere che al primo modo diciamo occasione utile questa diciamo questa attività di manutenzione del verde è stata fatta e viene portata avanti in maniera in maniera diciamo efficiente e puntuale e apriamo nuovamente la pagina delle segnalazioni dei telespettatori di Rossini tv vi ricordiamo di inviarci messaggi foto video per denunciare le situazioni che non vanno in città contattandoci su whatsapp al numero in sovraimpressione 370 366 72 10 apriamo nuovamente la pagina delle segnalazioni perché dopo il servizio andato in onda nell'edizione di ieri del nostro telegiornale riguardante l'abbandono di rifiuti in città nella giornata di oggi ci sono state segnalate nuove situazioni di disagio nello specifico come possiamo vedere da queste immagini è stato denunciato l'abbandono di lastre di eternit in strada del monte chiaro in località pozzo alto mentre in via salvo d'acquisto sono diversi i rifiuti gettati e accatastati nello spazio riservato ai cassonetti del centro la fonte situazioni che richiedono dunque rapide soluzioni e in questi giorni l'avis comunale di pesaro ha rinnovato l'invito rivolto a chi ha contratto il covid 19 ha sviluppato quindi anticorpi a donare il plasma iperimmune utile per chi sta ancora combattendo contro la malattia sentiamo nella prossima intervista i dettagli su come poter donare dal 13 maggio ad oggi avis non si è mai fermata nel raccogliere le sacche di plasma iperimmune la donazione si può effettuare effettuare presso il centro trasfusionale di pesaro per farlo dovete prima contattare avis le nostre segretarie roberta e milena vi coaglieranno a braccia aperte e abbiamo attive una linea telefonica 0 7 2 1 3 1 4 6 6 e un numero di whatsapp che è 3 8 8 5 8 0 4 6 7 1 ad oggi sono state raccolte circa 500 sacche di plasma iperimmune da 200 millilitri luna la somministrazione del plasma avviene in circa tre dosi per paziente ma abbiamo dati forniti dall'ospedale che già dopo la prima somministrazione ci sono degli effetti positivi sul ricevente quindi non dobbiamo assolutamente fermare questa questa donazione anzi se è possibile incrementarla le marche sono state tra le pioniere in italia in questa in questa raccolta i nostri centri sono a pesaro il principale poi c'è anche torrette e fermo torrette quindi per per marche nord e pesaro e torrette quali sono le caratteristiche del donatore del plasma iperimmune ovviamente deve aver contratto l'infezione da covid averla superate quindi essere in stato di buona salute e avere un numero di anticorpi adeguato alla donazione questo lo valuterà il centro trasfusionale quindi noi come avis dobbiamo far passare il messaggio che c'è l'opportunità di avere un'arma in più contro questa contro questa malattia quindi i potenziali donatori possono contattare l'avis per il resto poi roberta e milena vi indirizzeranno per effettuare la donazione nuovo incarico per il dottor filippo mezzolani che fino allo scorso 31 dicembre è stato direttore del pronto soccorso dell'ospedale di urbino e che dal prossimo primo febbraio seguirà la rsa di macerata feltria riconvertita a fine novembre in struttura covid per fronteggiare le esigenze del territorio dell'area vasta e l'amministrazione comunale di fano ha provveduto anche per quanto riguarda il 2021 all'azzeramento della tosap sull'ampliamento del suolo pubblico per le attività produttive della città una misura importante che interessa circa 4 mila metri quadrati di suolo pubblico per un centinaio di attività ha commentato l'assessora al bilancio sarà cucchiarini sul protocollo d'intesa promosso dal comune di fano e siglato assieme ai comuni delle vallate del metauro e del cesano si è espresso anche il sindaco di cartoceto enrico rossi il quale ha affermato che questo lavoro potrebbe rappresentare l'incipit di un importante lavoro in rete per la valorizzazione e lo sviluppo turistico del territorio amadeus il genio in viaggio è il primo concerto della nona edizione di sinfonica 3.0 l'appuntamento si svolgerà al teatro rossini di pesaro e andrà in onda domani 6 febbraio alle 20 30 in streaming sui canali dell'orchestra sinfonica rossini il primo appuntamento avrà per protagonista francesco dorazio in qualità di solista e di direttore e anche a pesaro è stato attivato il primo cantiere per i lavori di efficientamento energetico in una palazzina che disporrà dei benefici fiscali introdotti dal bonus 110 per cento ne abbiamo parlato in questa prossima intervista con l'ingegnere stefano gambini il cantiere è il primo cantiere diciamo di super bonus 110 per cento e siamo in via cicognani insieme al sottoscritto sono stati i primi e che insomma hanno voluto usufruire di questo incentivo statale il cantiere è partito nello scorso gennaio parliamo dell'11 gennaio e avrà fine indicativamente nel mese di aprile e le lavorazioni previste sono quelle di rifacimento della coibentazione in copertura e della realizzazione di un tetto ventilato e coibentazione termica a cappotto sostituzione di tutti gli infissi con infissi altamente performanti e chiaramente con vetrocamera e sostituzione di impianti di generazione di calore con sistemi innovativi a condensazione e questi sono tutti diciamo i lavori di carattere generale del super bonus super bonus 110 per cento significa sostanzialmente eseguire i lavori a costo pressoché nullo eseguire lavori a costo pressoché nullo è un vantaggio l'altro vantaggio senza dubbio più importante è quello di poter riqualificare e quindi dare maggior valore agli immobili esistenti garantendo contemporaneamente comfort e sostenibilità a livello di ogni tipo intervento che si fa con questo bonus che ci viene offerto dallo Stato sostanzialmente quindi si tratta di interventi di potenziamento energetico che portano a garantire innanzitutto un risparmio in bolletta ma soprattutto maggior comfort per i fruitori degli ambienti quindi diciamo il contribuente oltre a essere agevolato dal punto di vista di avere un carico di spese nettamente ridotto presso pari a zero e ottiene anche sostanzialmente un risparmio in bolletta proprio perché interventi come la coibentazione termica capotto la sostituzione degli infissi diciamo la riqualificazione dell'impianto di generazione di calore e tutti questi interventi portano sicuramente ad un miglioramento della prestazione energetica diverse le richieste arrivate come sottolineato dall'ingegner Gambini per l'attivazione di nuovi cantieri con la formula del bonus 110% ad oggi il sottoscritto ne ha 27 sicuramente si stanno muovendo tutti penso di essere stato un veterano però diciamo nell'inizio di questa esperienza che sta dando le prime soddisfazioni importanti. E la pagina dello sport di oggi è dedicata alla scuola di patinaggio Torolski Center e al grande risultato ottenuto da Linda Rossi che è un'atleta della società. Ce lo racconta nella prossima intervista il presidente della Torolski Center Michele Ravagli. Linda si è espressa a livello internazionale con un risultato appunto di valore assoluto e in una bolla viste le normative covid in una bolla olandese all'interno della quale in 5 settimane verranno svolte nell'ordine o meglio sono state svolte campionato europeo e coppa del mondo e verrà disputato il campionato del mondo all'interno di queste 5 settimane Linda dopo aver collezionato già risultati prestigiosi nel campionato europeo addirittura nelle due prove di coppa del mondo si è classificata quarta assoluta nella mass start quindi nella gara di gruppo prima delle italiane in gara a soli 23 anni alla sua prima convocazione internazionale nel mondo dei grandi è una gioia incredibile in un territorio che poi è già avulso in parte dal discorso del patinaggio in quanto noi siamo già l'unica società della provincia di Pesaro Urbino ma ancor più pensare che tutto questo è avvenuto su ghiaccio proprio perché noi da quest'anno abbiamo scelto di sostenere tutti i nostri atleti sia quelli del settore giovanile ma in particolare i nostri atleti di punta sia sul percorso che fanno durante il periodo estivo nel mondo rotellistico ricordo che Linda è attualmente la campionessa europea in carica a rotelle nei 100 metri sprint e soprattutto anche nel percorso ghiaccio in quanto è un percorso prestigioso olimpico professionistico di conseguenza questa sua prima convocazione in azzurro e questo risultato quarta in coppa del mondo è stata una cosa strabiliante allora l'appuntamento importante per il prossimo fine settimana assolutamente sì il fine settimana che va dall'11 al 14 e si disputerà appunto il campionato del mondo e one shot il campionato del mondo si differisce appunto dalla coppa del mondo da cosa la coppa del mondo è una gara tappe è un po come il giro d'italio il tour de france anche perché la somma dei punteggi decreta alla fine la classifica generale il campionato del mondo è una gara one shot cioè chi vince vince il mondiale quindi Linda si presenta con delle credenziali importantissime e noi stiamo lavorando proprio perché perché lei possa affinare ulteriormente in queste due settimane tutte le armi per figurare e portare in alto i colori del nostro paese l'emozione da parte della vostra società guarda l'emozione del pochi è scesa anche qualche lacrimuccia perché perché noi siamo nati e siamo un po un po un embrione no ripeto il patinaggio addirittura pesano non c'ha neanche l'impiantistica per potersi allenare quindi noi siamo una realtà regionale quindi immaginiamoci in un territorio che non presenta nessuna vocazione per gli sport invernali e noi abbiamo un atleta che ha sfiorato il podio in coppa del mondo assoluta tutto questo tutto questo è reso possibile dalla collaborazione dalle partnership io non finirò mai di ringraziare i nostri sostenitori in cima alla lista Comis che ci sta sostenendo da anni e da quest'anno anche una realtà locale che è vanilla in cola gelateria proprio perché comunque riusciamo ad essere ad avere una impronta di grandi aziende che ci sostengono e di piccole realtà del territorio senza dimenticare poi la consulenza preziosissima della Incoaching di Senigallia quindi grazie a tutti i nostri investitori e collaboratori grazie di cuore e questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordo la prima serata su Rossini TV questa sera alle 21 e 15 potrete vedere lo speciale dedicato all'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente l'appuntamento con l'informazione su Rossini TV torna puntuale domani mattina con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini che prosegue da diverse settimane ormai anche il sabato con voi ci sarà Marco Gadeddu in diretta alle 7.20 e poi lo sport sarà nuovamente protagonista su Rossini TV questo sabato a partire dalle 17 in diretta l'Ital Service sfiderà il CDM Genova quindi non perdete questo appuntamento sportivo sabato su Rossini TV alle 17 grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale